Musica Un passo avanti ma non basta, Anpas commenta l'approvazione della legge regionale sui trasporti sanitari e chiede ad Alisa di rivedere il bando per l'affidamento a terzi dei servizi interni. Casalza Ligure chiede un incontro ad Anas per discutere gli investimenti sulla statale 523. La giunta rilancia il progetto di una galleria tra Battilana e Moneglia. Sul tavolo anche il caso della segnaletica orizzontale continua. Il Papa ha inaugurato stamani un ciclo di catechesi sulle beatitudini, l'esortazione a sperimentare il potere del Signore manifestato nelle sofferenze quotidiane per arrivare alla felicità proposta da Dio. Lo spirito di collaborazione all'interno dell'ambito è il primo passo per vivere una vita cristiana di aiuto reciproco e fraternità. Il Vescovo a Sant'Ambrogio per la visita pastorale nell'ambito di Rapallo e Zoagli. Essere missionari significa costruire legami con le azioni di carità e la propria testimonianza. Questa sera in Missione Mondo e Leonore Paolo in Peru per l'operazione Mato Grosso. Ai nastri di partenza la quindicesima mezza maratona delle due perle che recupera il percorso originale sabato e domenica a Santa Margherita Ligure nel Tiguglio occidentale previste oltre 4.000 presenze. Buongiorno a tutti e benvenuti a Tiguglio Oggi. Torniamo ad occuparci in apertura del nostro notiziario del tema legato al trasporto sanitario, in particolare con la decisione unanime del Consiglio regionale che ha dato il via libero alla nuova attesa legge. Per l'assessore regionale alla salute Sonia Viale si tratta di un risultato importante frutto del confronto con le associazioni e a tutela del volontariato. Pubbliche assistenze e croci rosse però dicono è solo un primo passo. Vedremo se Alisa revocherà i bandi per l'affidamento a terzi dei trasporti interni. Sentiamo. L'approvazione della legge è un riferimento certo da cui ripartire. Approvata l'unanimità viene presentata dalla Regione quale risposta alla sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che impose di rivedere l'intera norma fino ad allora vigente in Liguria, mettendo a gara tutti i trasporti sanitari non di emergenza. L'assessore alla salute Viale spiega anche che con la nuova legge è stato raggiunto l'obiettivo di preservare il prezioso patrimonio del volontariato, più volte riconosciuto come il modello Ligure. Tuttavia le associazioni Ampas, Cipas e Croce Rossa vedono il passaggio di ieri non con lo stesso entusiasmo. Va chiarito, scrive Fabio Mustorgi, coordinatore Ampas del Tiguglio, che comunque una parte dei servizi di trasporto sarà messo a gara, cosa che provocherà, in quale misura ancora non si sa, un disequilibrio economico a danno dei pazienti. Va rivisto, chiede Mustorgi, il patto di sussidiarietà, che ad oggi prevede rimborsi irrisori per gli interventi 118 in emergenza a fronte della realizzazione di tutti i trasporti ordinari. Se si riduce il nostro lavoro, dice in pratica Ampas, allora occorre aumentare le emergenze, altrimenti una piccola realtà come potrà sopravvivere tenendo i suoi mezzi fermi. La somma dei rimborsi regionali, si legge nel comunicato, riconosciuti da Regione Liguria, le pubbliche assistenze e alle Croci Rosse si aggira sul 70% dei costi vivi sostenuti. Eppure garantire ambulanze efficienti con equipaggi qualificati in attesa di svolgere servizi in emergenza a costi altissimi. Eppure viene riconosciuto un rimborso per il diritto di chiamata pari a 31,17 euro e di 0,88 centesimi a chilometro. L'assessore Viale ricorda che la Giunta ha riconosciuto l'indicizzazione dei rimborsi, cosa che non avveniva dal 2010, ma Mustorgi sottolinea ancora che l'indicizzazione in realtà è parziale. Insomma, la legge è un primo passo, ma non c'è da cantare vittoria. Vedremo, conclude Ampas, se Alisa revocherà i bandi per rifarli alla luce della nuova normativa. E ora parliamo del tema della viabilità. Casarza Ligure chiede un incontro ad ANAS per discutere degli investimenti programmati lungo la Statale 523. La Giunta Stagnaro rilancerà il progetto di una galleria di collegamento tra Battilana e Moneglia. Sul tavolo però anche il problema della segnaletica stradale continua su tutto il percorso. Partiamo proprio da qui nell'intervista con il Sindaco. Casarza Ligure come ha preso questo provvedimento? L'ha preso molto male, sia dal punto di vista nostro del Comune, sia dal punto di vista dei privati, che in molti casi hanno dei passi carabili ultra quarantennali e da oggi a domani si sono trovati interclusi con una riga continua. Non è stata data nessuna comunicazione e questo è l'elemento più negativo, perché tra un buon andamento dell'amministrazione e anche una collaborazione tra enti, sebbene ANAS è proprietaria della 523, il coinvolgimento con l'ente territoriale non è doveroso ma è dovuto. Il disagio per chi è? Soprattutto per i privati che oggi devono fare chilometri in alcuni casi per poter accedere dalla parte all'altra della careggiata alla propria abitazione, ma anche per il Comune, perché in alcuni casi ci sono state delle scelte discrezionali, sicuramente fatte sulla base del codice, ma che capiamo poco, che hanno anche intercluso dei parcheggi pubblici. La competenza soprattutto in un centro abitato, avete capito di chi è? Abbiamo firmato un protocollo d'intesa in passato nella quale si diceva che all'interno del centro abitato la manutenzione ordinaria la doveva fare il Comune. Ora io mi domando se il rifacimento di una segnaletica stradale è o no una manutenzione ordinaria, ritengo di sì, e non una manutenzione strutturale come invece ritiene ANAS. ANAS sta intervenendo con la manutenzione di alcuni tratti della 523, promette degli investimenti, su questo cosa ne pensate? Ha promesso degli investimenti forti di rifacimento del manto stradale soprattutto, quindi ci dimandiamo anche come mai che sono state fatte delle strisce quando poi devono essere fatte le asfaltature, mi sembra anche questa una cosa poco logica. Per quanto riguarda i grandi progetti invece che cosa c'è in cantiere? Da parte nostra il progetto più importante, un sogno ma che è un sogno realizzabile, è già infatti inserito nel piano urbanistico del Comune di Moneglia, è un collegamento in località battilana tra Casazza, Igor e Moneglia, questo permetterebbe più risultati, sicuramente da parte nostra uno sviluppo turistico e anche industriale, da parte di Moneglia la possibilità di bypassare il problema delle gallerie, riteniamo sia anche un intervento rispetto ad altri molto più impattanti anche dal punto di vista economico e ambientale più fattibile. Il Comune di Rapallo chiede a Dato di estendere la rete fognaria in via Canale, Salita Cappelletta e via Passalacqua. Si tratta di tre strade che si trovano a Sant'Anna, San Pietro di Novella e Sant'Andrea di Foggia. La richiesta è stata inoltrata ufficialmente da parte dell'amministrazione comunale con l'obiettivo di avviare il procedimento per le verifiche tecniche necessarie. Il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio hanno spiegato che le richieste dei cittadini di queste zone sono molto frequenti. Pertanto si chiede a Dato di inserire queste opere nel programma degli investimenti. Ora la pagina ecclesiale. Papa Francesco questa mattina ha inaugurato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alle beatitudini. Il Santo Padre ha introdotto l'argomento che poi verrà affrontato di settimana in settimana soffermandosi su ogni singola beatitudine. Per donarsi a noi, ha spiegato, Dio sceglie spesso le strade impensabili, magari quelle dei nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte. La gioia pasquale di cui parlano i fratelli orientali ha infatti attraversato la morte, fatta esperienza della potenza del Signore, ha le stimmate ma è viva. Ripercorrendo il Vangelo di Matteo, Francesco ha riflettuto sul discorso della montagna pronunciato da Gesù che dice ha illuminato la vita dei credenti e anche di tanti non credenti. Sentiamo un passaggio delle parole del Papa. Dio perdonarsi a noi sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre confitte. E la gioia pasquale, la gioia di cui parlano i fratelli orientali, quella che ha le stimati ma è viva, ha attraversato la morte e ha fatto esperienza della potenza di Dio. Le beatitudini ti portano alla gioia, sempre, e la strada per andare alla gioia. Ci farà bene prendere il Vangelo di Matteo oggi, capitolo quinto, versetto uno al undici, e leggere le beatitudini. E forse alcune volte in più durante la settimana, per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità che il Signore ci propone. In diocesi prosegue la visita pastorale che Monsignor Tanasini sta compiendo nell'ambito pastorale di Rapallo e Zoagli. In particolare ieri il Vescovo ha visitato i fedeli delle parrocchie di Sant'Ambrogio e Semorile di Zoagli. Quello dedicato ai colloqui personali è stato uno dei momenti della giornata, che si è conclusa poi con la celebrazione eucaristica e l'incontro con i responsabili del Consiglio per gli affari economici delle parrocchie dell'ambito. Il riconoscersi fratelli, nonostante le moltissime diversità che possiamo trovare negli altri, che siano di un altro continente o al nostro vicino di casa, parte dal fare riferimento ad un unico padre, quello che sta nei cieli. Così esordisce Monsignor Tanasini durante l'Omelia di fronte ai fedeli di Sant'Ambrogio e Semorile, fratellanza che si manifesta nell'aiuto reciproco e nelle responsabilità comuni. Uno degli scopi di questa visita pastorale è proprio quella di richiamare questa nostra appartenenza comune dove non ci sono quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall'altra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti noi siamo chiamati ad avere delle responsabilità di confronti di Dio e la prima responsabilità è quella dell'annuncio. A chi tocca annunciare il Vangelo? A chi tocca annunciarlo soprattutto con la propria vita? Tocca a noi tutti. La comune responsabilità all'annuncio necessita di spirito di collaborazione, a partire dall'ambito postodale. Sono rimasto colpito dal fatto che nell'ambito si è lavorato da parte di tutti, tutti hanno portato le proprie osservazioni e il proprio contributo, ma con uno spirito di collaborazione, cosa che non è semplice oggi perché ogni comunità, soprattutto le più grandi, hanno delle esigenze che non hanno le più piccole. Un po' di persone ci sono, la gente del posto c'è, certo che ormai chi lavora, i figli ad esempio lavorano, perciò magari non ci sono. Mi sono preparato soprattutto esercitandomi a fare il chirichetto e impegnandomi a scuola soprattutto. Da quanto tempo fai il chirichetto? Da due anni circa. E come mai hai deciso di iniziare? Perché mio padre e i miei genitori mi hanno detto che è una cosa bella, io mi sono fidato allora ho deciso di fare il chirichetto. E confermi che è una cosa bella? Sì, non è niente male, mi piace. Nel monastero delle sore Clarisse di Levi c'è stato un momento di saluto e commiato per una coppia di giovani, Paolo e De Leonora, che con i loro quattro figli da giovedì faranno ritorno a Lima. Originari di Rivarola di Carasco da sette anni vivono in Peru, missionari dell'operazione Mato Grosso e periodicamente tornano in Italia per testimoniare la loro esperienza. Testimonianza che sarà proposta questa sera nell'ambito della rubrica Missione Mondo in onda alle 21.10 su Telepaccio 1 al canale 15, ora una breve anticipazione. Il servizio, la missione sono esperienze totalizzanti. L'aiuto non è solo materiale, ma si concretizza anche nel costruire legami con le persone e nel condividere la propria testimonianza. Così Paolo e De Leonora, che da sette anni vivono in Peru al servizio dell'operazione Mato Grosso e lì hanno costruito la loro famiglia con quattro figli. Le nostre comunità hanno bisogno di persone che abbiano questo coraggio e diventano per noi queste testimonianze un po' uno sprone per ridare fiducia, ridare speranza a quella che è un po' la nostra vita quotidiana. Ogni due o tre anni Eleonora e Paolo tornano in Italia per rincontrare parenti, amici e per condividere nelle parrocchie la loro esperienza di vita, totalmente al servizio degli altri. Vita missionaria che non sarebbe possibile se non ricevessero a loro volta il supporto di altre persone. C'è tutta una parte di legami importantissima perché appunto noi senza le persone qua non possiamo permetterci di fare una vita così, quindi per aiutare i poveri devi avere qualcuno che si commuove insieme a te e dice sì ci credo, ci credo anch'io con te, parto anch'io con te, non posso venire lì però vengo con te, ti do questi soldi, ti aiuto a preparare questa cosa, ti sostengo, prego per te perché poi dopo gli aiuti sono tutti. Mi sono commossa in questi mesi in Italia a vedere tante persone che fanno una vita regalata per Dio anche qua e questo mi consola e capisco che veramente ognuno è chiamato a qualcosa più grande di noi che noi non sappiamo ma se ci lasciamo guidare ci porta a vivere qualcosa di bello e di vero. La cosa più bella di questo rientro è stato conoscere tanti ragazzi, vedere la luce e la brillantezza che hanno ancora i giovani, che noi diventando grandi un po' ci spegniamo, questa voglia di cambiare il mondo, questa speranza che si può vivere una vita più bella. Il Consiglio Comunale di Ne è convocato per venerdì alle ore 20, all'ordine del giorno sono iscritte 5 pratiche tra cui argomenti come il regolamento per la gestione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in località Valle Scura. Sarà discusso inoltre un ordine del giorno del sindaco a sostegno del piano straordinario di lotta alla cimice asiatica proposto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti di Roma. Ora spogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti dello sport. Il titolo di avvenire è stati asimmetrici, si riferisce al piano di pace presentato da Trump per il Medio Oriente, riconosciuta la Palestina ma a Israele andrebbero le colonie e tutta Gerusalemme capitale indivisa, proteste nei territori occupati, vediamo appunto in questa foto. E poi ancora profughi alla fine in porto ma 237 restano sulla nave, a Taranto i 400 della Ocean Viking 77 sbarcati a Malta ma non c'è ancora l'intesa sull'Open Arms che rimane in attesa. Rinvio anche per la prescrizione, prima verifica di governo ma l'Italia Viva non vota e dà sette giorni per un'intesa sull'Odo Annibali. E poi ancora nuovo padre nostro si reciterà dall'avvento, nel messale arriva una traduzione più fedele all'originale, quindi la preghiera di Gesù riportata nei Vangeli e poi un ponte per far uscire agli stranieri dalla Cina, il coronavirus si estende. Maestre arrestate, bimbi maltrattati a scuola, ottavo caso in Italia. Poi attentati e attacchi, i jahidisti nel Sahel uccidono 80 persone. Sempre dall'interno di avvenire, pagamenti statali ancora troppo lenti, la Corte di Giustizia europea boccia l'Italia. I giudici infatti danno ragione alla Commissione che nel 2014 aveva aperto una procedura di infrazione per l'Italia, per il Tesoro i tempi medi per saldare adesso sono 54 giorni, ma i costruttori parlano di ritardi fino a 4 mesi. Siamo sulle pagine del secolo XIX, l'apertura della prima pagina su Autostrade, si è lontana lo stop alla concessione e il titolo vola in borsa. Aspi più 6,3% ha recuperato in un giorno un miliardo di capitalizzazioni, segnali di dialogo a distanza tra Benetton e il governo su altre compensazioni. E intanto Ministero Azienda e PM controlli incrociati sui viadotti e le gallerie dopo il crollo del Ponte Morandi. Ma intanto ieri cade una paratia sulla 12, danni a un tir, protesta degli autisti, ma Autostrade dice che è stata colpa del mezzo pesante. Il piano di Trump è Gerusalemme capitale, quindi la soddisfazione dello strato israeliano. Movimento 5 Stelle a Conte non siamo la sampella di Zingaretti, protesta per l'idea di una formazione unica progressista e intanto in Liguria si fa strada un'idea di possibile intesa tra il PD e il Movimento 5 Stelle, sansa in ascesa per la sfida a Toti. Il coronavirus che avanza in Cina, mascherine esaurite, un ponte aereo per l'Unione Europea e poi per la Carigia i soci trentini eserciteremo l'opzione nel 2021. Sempre dalla prima pagina del secolo, allarme, farfalla killer delle palme, il primo caso scoperto a Rapallo, per essere più precisi, a San Michele di Pagana, scatta un'altra emergenza dopo la strage di alberi causata nel Punturolo, al momento l'insetto non è contrastabile, eccolo qua nella foto, è il Paissandisia arcon, detto anche casnide delle palme. E' stato scoperto a San Michele di Pagana dal giardiniere Marco Fenelli, controllavo le piante, aspettavo il suo arrivo. Sempre dal secolo XIX di oggi, chiusura della 12 via Aurelia sotto pressione nelle ore notturne, chiude l'autostrada tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova e tra Recco e Rapallo in direzione Livorno, autostrada optimis per i lavori nelle ore notturne, viabilità complicata nel Golfo Baradiso, calendario degli interventi, stessa chiusura anche questa sera. E' stata approvata in Consiglio regionale la proposta di legge per la promozione di attività di vendita dei prodotti sfusi e alla spina. L'obiettivo è quello di ridurre la produzione di imballaggi estendendo le opportunità di diversificazione dell'offerta commerciale dei negozi di vicinato. prossimamente verrà predisposto un bando per agevolare questa tipologia di esercizi commerciali. Altre notizie dalla redazione, per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue. Due persone sono state investite a Rapallo da una vettura e si trovano adesso in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 e un quarto di questa mattina, in corso Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti per prestare soccorso i militi della Croce Verde di Santa Margherita Ligure e i volontari del soccorso di Rapallo, che hanno trasportato all'osocomio i feriti con le loro ambulanze. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Andiamo ora sul nostro sito teleradiopace.com con una immagine ricorrente, quella delle mimose fioriti che possiamo trovare anche ai bordi delle strade nel nostro introterra. Il clima mite di questa prima parte d'inverno, infatti, ha favorito fioritura anticipata in molte regioni. Anche in Liguria sono già in fiore la ginestra e soprattutto la mimosa, presente specialmente nel ponente Ligure, dove circa 1.500 aziende la coltivano in modo ecocompatibile sui tipici terrazzamenti. Il monitoraggio è stato effettuato dalla Col Diretti in Liguria. Il rischio, ora che il ritorno del freddo, comprometta l'annata del settore, che fornisce il 90% della produzione italiana di questo fiore. E andiamo ora a parlare di sport. Ai nastri di partenza, la quindicesima edizione della Mezza Maratona delle Due Pelle, manifestazione podistica che interesserà nel fine settimana Santa Margherita Ligure e l'intero Tigulio occidentale. Si inizierà sabato con la Portofino Run e la prima edizione della nuova manifestazione Corri Santa, passeggiata ludico-sportiva attraverso le bellezze ambientali del territorio. Domenica l'evento clou della Mezza Maratona che si propone con numeri significativi. Sentiamo. L'edizione 2020 della Mezza Maratona delle Due Perle, già nelle premesse, parte con slancio. Grazie al recupero della Provinciale 227 per Portofino, lo scorso anno ancora inagibile a causa dei danni provocati dalla mareggiata, l'evento recupera il percorso storico e anche i numeri da record delle primissime edizioni. Si prevedono quasi 2000 partecipanti alla Mezza Maratona il giorno della domenica e speriamo di raggiungere i 1000 partecipanti sabato in occasione della Portofino Run e della Corri Santa. L'aspetto sportivo è strettamente correlato a quello turistico in un periodo di bassa stagione. Sì, è il primo evento sportivo che dà il via alla stagione, e dà il via alla grande direi, perché è una manifestazione forse tra le più importanti, tant'è vero che fa parte del brand turistico sportivo 60 Super Sport, con il quale noi vogliamo lanciare questa idea di fare turismo con lo sport e soprattutto un turismo destagionalizzato. La soddisfazione è vedere anche ormai tutte le strutture ricettive del posto già piene, piene di ospiti, non solo a Santa Margherita ma anche a Rapallo e quindi diciamo che uno dei nostri obiettivi è stato raggiunto. A contare non solo i numeri e le presenze ma anche il risvolto solidale che gli organizzatori da sempre danno all'evento e che quest'anno porrà l'attenzione particolarmente sull'Africa. I bambini di Malika, un'organizzazione che sta cercando di realizzare delle strutture scolastiche e sportive e anche, come dicevi prima, diamo la possibilità anche a dei giovani africani che corrono e che hanno bisogno anche di indumenti tecnici per poterlo fare. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione su Telepace 1 al canale 15 ritorna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45. Prosegue invece al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio. Grazie a tutti.